Un bimbo di due anni ieri pomeriggio è caduto dalle scale interne prive di protezione di un palazzo del quartiere Paolo VI di Taranto, facendo un volo di circa 4 metri e riportando gravi ferite alla testa. Dopo la caduta è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato prima all'ospedale Moscati e successivamente all'ospedale Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Le sue condizioni sono comunque in via di miglioramento. L'ASL, in una nota, denuncia vere e proprie azioni vandaliche all'ospedale Moscati da parte di alcuni cittadini dopo il ricovero del bambino. Sono state danneggiate porte e finestre ed è stato messo a soccuadro il reparto di radiologia, nonostante, osserva l'azienda sanitario locale, la totale abnegazione del personale sanitario impegnato a salvare, come sempre, vite umane, in questo caso la vita di un bimbo di due anni. Il danneggiamento di un ospedale rappresenta una vera sconfitta morale, privo di senso civico. Un ospedale, precisano dell'ASL, è il luogo dove si salvano vite umane, dove gente sofferente viene curata. Dovrebbe essere per tutti un luogo sacro. Il rispetto di un ambiente sanitario, luogo pubblico, è una condizione di maturità culturale, educazione, intelligenza, che ci contraddistingue dalle popolazioni selvagge. I parenti del bambino, a quanto si è appreso, avrebbero lamentato ritardi nei soccorsi e possibili complicazioni per il piccolo per la decisione di trasferirlo. Da qui sono scaturite le azioni vandaliche, tanto che è stata costretta a intervenire la polizia. Nelle prossime ore, intanto, i medici decideranno se sciogliere la prognosi del bambino.